Ciao e benvenuti in questo terzo video tutorial. Dopo aver visto come creare un account su Poloniex, come comprare le criptovalute, adesso andiamo a vedere come vendere criptovalute. Eccoci qua, dopo aver acquistato la criptovaluta che avete deciso di acquistare e avete controllato nel vostro libro contabile, tra virgolette, su MyTrade, che la criptovaluta è stata acquistata. In questo caso vedete, stiamo guardando noi GameCredit, che sta comunque crescendo bene. Allora, per assicurarci che comunque l'abbiamo acquistata, andiamo su MyTrade e abbiamo Buy al prezzo che abbiamo comprato, il quantitativo di GameCredit o criptovalute in questione e l'ammontare in Bitcoin. Qua c'è la data e l'orario per avere un riferimento di quando l'abbiamo acquistato, che a volte vanno nel dimenticatoio. Allora, adesso sta crescendo, ma come vedete è già scesa. Vediamo un po' come vendere questa criptovaluta. Allora, possiamo decidere se venderla al prezzo attuale, quindi il prezzo di vendita che ha attualmente a noi va bene. Allora, in quel momento non dobbiamo fare altro che andare su Sell Game, mettiamo il quantitativo di criptovalute che noi vogliamo vendere, in questo caso facciamo un esempio con 50, ci dice l'importo in Bitcoin, quindi 0,01827 Bitcoin, indicativamente siamo sui 17€, facciamo Sell, quindi è piuttosto semplice, ci dice venduto tot tot tot, in questo caso le abbiamo vendute al prezzo attuale, quindi senza aspettare che GameCredit arrivi a quel prezzo. Adesso, se andiamo a vedere su MyTrade, vedete qua, Buy 35,19, Sell 36,66,3. Qua vi dà il quantitativo che voi avete speso, quanto avete speso in Bitcoin, e qua quanto avete ricevuto in Bitcoin. Ovviamente io ho comprato 200, adesso ho venduto 50, però questo vi serve anche per fare un calcolino poi di quanto profitto avete generato in Bitcoin. Vi fate semplicemente la differenza tra l'acquisto e la vendita, ed ecco che vedete il vostro profitto in Bitcoin. Ma immaginiamo che GameCredit stia salendo, quindi io non voglio venderla al prezzo attuale, ma voglio venderla ad un prezzo superiore, che al momento però non c'è. Quindi adesso il valore è di 36.700. Diciamo, bene, allora, siccome a me non va bene venderti a 36.700, ti voglio vendere a 37.000. Di conseguenza cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere qui 37.000. Potete metterlo a 0, ma anche no, perché non è fondamentale poi. Qua ci dice, tu hai adesso 100 GameCredit, allora a quel punto facciamo, ne vendiamo altri 50, però a 37.000. Non a 30, perché secondo me GameCredit adesso aumenta, quindi abbiamo questa idea che GameCredit possa aumentare. Perché facciamo questo? Perché noi impostiamo un prezzo di vendita e poi non dobbiamo assolutamente continuare a seguire la criptovaluta, anche se è bene comunque darci ogni tanto una controllata, però possiamo impostare il prezzo di vendita perché noi presumiamo che quella criptovaluta arrivi a quel prezzo, di conseguenza lo impostiamo e possiamo tranquillamente andarci a fare le nostre cose. Spesa, baby sitter, quello che è. Quindi andiamo qua e mettiamo 37.000. Facciamo sell. La piattaforma di Polonex, quando la criptovaluta, in questo caso GameCredit, arriva a 37.000, in automatico, adesso avevo già un ordine preimpostato, ne cancelliamo uno, quando arriva a 37.000 ce la vende in automatico, quindi noi torniamo, non vedremo più MyOpenOrder, quindi un ordine aperto, ma lo troveremo su MyTrade, quindi il nostro storico di compravendita. In quel caso significa che la nostra criptovaluta è stata venduta, perciò abbiamo visto come vendere una criptovaluta, è piuttosto semplice, ci vediamo nel corso numero 4, dove andremo a vedere la funzione Stop Limit, di vendita e di acquisto. Un abbraccio da Marco.